il mio amico gamba ha appena detto che in carnitas è un sinonimo di entusiasta si 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 volete dire qualcosa a ti? si ciao aspetta guarda ciao mamma che cazzo di visuale che hai messo... faccio vedere la camera con un cimice si che ho trovato un cimice guarda ma è strano andrei a poter dire qualcosa ciao mamma cosa sai mi danni scaglia in bagno comunque dopo il tiro su ok ciao